Ciao a tutti, tu chi sei? Ok, perfetto, facciamo un esercizio semplicissimo di progressione, vedete se ho una palla, un muro e qualche bersaglio. Primo esercizio, da dietro la linea si comincia, autoalzate, palleggio, cerco di prendere il bersaglio grande al centro, senza superare la linea. Ok, chiaramente il passo successivo è farlo consecutivo, cercare di colpirlo 5 volte consecutivamente, vedere quanti colpi servono. Vai, facciamo una prova. Ok, poi così si ripete per tutti i bersagli, partendo dal giallo, rosso, azzurro e verde. Ok, stop, la sfida diciamo che potrebbe essere quella di colpire 5 volte tutti i bersagli senza mai far cadere la palla. Ciao, ciao Lara e grazie. Ora palleggi rafficinati, usando solo il polso e l'indice e il pollice. Ciao, sono Michela e gioco nella squadra più tante nuove di PS e adesso vi farò vedere un esercizio che ho fatto io. Ok. Adesso un altro esercizio. andrò dall'alto, farò dei palleggi con la palla, andando dall'alto verso il basso e poi salgo. Ciao, sono Gloria Brunelli, sono dall'Under 12 e oggi farò un po' gli esercizi per tenermi allenata. parto con il palleggio vicino al muro per scaldare i borsi. Ecco, adesso ne faccio un po', prezzo a poco un metro. ecco, adesso faccio la stessa cosa con i baghe. ecco, rifaccio un po' più da lontano. adesso alleno il braccio. prima faccio solo quelli per portare. adesso faccio un po' lì con l'apertura. adesso poi lì con il lancio. ecco fatto. spero che questi esercizi vada bene e ci vediamo presto. Ciao, sono Chiara Tira dell'Under 12 di Cess. Ciao, sono Rebecca e gioco nell'Under 12 di ogni lotto a FIES. adesso vi farò vedere i baghe di ripetizioni del baghe di ripetizioni del baghe di ripetizioni. si inizia lanciando la palla e bisogna fare 10 ripetizioni continuando a fare il baghe contro il muro. poi, man mano, si aggiungeranno, diventeranno 12, 15, 17 e poi ci arriveranno ai 20 ripetizioni consecutive. adesso è una gatta comincinia del 12 di Cess. 1 a 0 per l'under 12 di Cess. per la mamma. è perché vuole farsi vedere la mamma. Pippo. 2 a 0 per la mamma. Inquadriamo la mamma. Vecchia. Ciao a tutti, sono Giulia Losio e gioco nell'Under 12 di FIES. Oggi vi farò vedere un circuito di allenamento. il della una una un 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 Il paretio di extremo, baby This is the river of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tu sabes como lo hacemos, baby This is the river of the night Delice the night's like fuego But it's been a diner Il paretio di extremo, 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 extremo RICO No son ni Reebok ni Sundae Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo estoy pero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en la herida de me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Voy pa'l y anda así que dale zumba Los dejo ciego con la vida que me alumbra Los dejo ciego con la tumba Los dejo ciego con la tumba Los dejo ciego con la tumba Vivo, 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 vivo Ciao Giorgio Dopo un bel po' di riscaldamento L'aera stava facendo una bella partitina Eh Che bella po' Ah Basta Ciao 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 Vai la igua Ah Ciao 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 e quando il mondo ti schiaccia Provaci anche tu, tira fuori il bimbo che hai dentro Non nasconderlo più, e ti ho portato due fiori Uno sono io, l'altro sei tu, e vorrei essere anch'io Bello come sei, bella Noi, noi Ciao Ciao, sono Ilaria Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, sono Martina. Grazie a tutti. Ciao a tutti. E per finire si palleggia sopra la mamma. Sperando che non arrivi una pallonata. Ciao, sono Michela. E se faccio un po' di schiacciate? Faccio un po' di addominali. Faccio un po' di rincorse. Ciao. Ciao, ora faccio un po' di palleggi con mio papà. Faccio un po' di addominali. Papà! 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 E spero di esserci riuscita. Ciao, spero di rivedervi presto. Ciao, ciao!